Questo è Dante. Dante usa internet tutti i giorni, sia per lavoro che per divertimento. Il suo modem router wifi ha spesso problemi. Si disconnette, deve essere riavviato e fa perdere a Dante moltissimo tempo. Dante decide di acquistare un nuovo modem router wifi che soddisfi le sue esigenze. Ci sono moltissimi modelli, ma alcuni sembrano troppo limitati, altri troppo ingombranti e difficili da gestire. Dante non è un esperto di dispositivi di rete. Dante decide di fare una ricerca online e scopre il Fritzbox 7490. Questo modem router ha veramente tutte le caratteristiche di cui Dante ha bisogno. È facile da installare, con il sistema operativo Fritz OS completamente in italiano. È veloce, ha antenne potenti e può coprire uno spazio di grandi dimensioni. Permette di gestire la telefonia diventando anche un centralino, di ricevere fax via mail o gestire i propri numeri fissi dallo smartphone. È anche un ottimo media server che permette di accedere ai propri file anche in mobilità. Così Dante può lavorare dove vuole senza alcuna limitazione, oppure godersi i propri film preferiti anche quando è in viaggio. Il Fritzbox 7490 offre anche molte funzioni di sicurezza, controllando gli accessi tramite VPS ed escludendo dispositivi sconosciuti e offrendo aggiornamenti continui del sistema operativo Fritz OS. Visto che Dante è molto attento alle spese e alla salute, può anche programmare lo spegnimento del suo Fritzbox 7490, evitando non solo di consumare energia, ma anche di aumentare le onde elettromagnetiche nella propria casa. Dante è finalmente tranquillo e sa di poter contare sull'assistenza AVM in italiano per ben 5 anni. Fritzbox 7490, il modern router con wifi velocissimo.